Mentre l'intervento curativo si veniva concentrando sempre su stati per i quali esso è inefficace, costoso e doloroso, la medicina cominciava a smerciare prevenzione. Il concetto di morbosità si è esteso fino ad abbracciare i rischi pronosticati. Dopo la cura delle malattie, anche la cura della salute è diventata una merce, cioè qualcosa che si compra e non che si fa. Quanto più alto è lo stipendio pagato dall'azienda, quanto più elevata è la posizione che si occupa nell'apparato, tanto più conviene spendere perché una così preziosa rotella della società sia sempre ben lubrificata. La spesa per la conservazione della forza lavoro ad alto contenuto di capitale è la nuova misura di status per le classi alte. Per essere all'altezza dei brambilla, oggi bisogna consumare check-up, come si dice con un termine inglese che fa ormai parte del vocabolario quotidiano italiano, francese, serbo, spagnolo, malese e ungherese. Ci si tramuta in pazienti senza essere malati. La medicalizzazione della prevenzione diventa così un altro grande sintomo di iatrogenesi sociale. Essa tende a trasformare la mia responsabilità personale per il mio futuro in gestione del mio essere da parte di qualche agenzia. Solitamente il pericolo rappresentato dai comuni accertamenti diagnostici è temuto ancora meno di quello derivante dalle terapie ordinarie, anche se i danni d'ordine sociale, fisico e psicologico, inflitti dalla classificazione medica, sono altrettanto ben documentati. Le diagnosi eseguite dal medico e dai suoi aiutanti possono stabilire per il paziente dei ruoli o temporanei o permanenti. In tutti e due i casi, esse aggiungono a una condizione biofisica uno stato sociale che discende da una valutazione presumibilmente autorevole. Quando un veterinario diagnostica l'indisposizione di una vacca, di solito non influenza il comportamento del paziente. Quando invece un dottore fa la diagnosi a un essere umano, lo influenza. Nei casi in cui il medico adempie la funzione di guaritore, conferisce alla persona riconosciuta malata certi diritti, doveri e scusanti che hanno una legittimità condizionale e temporanea e che decadono quando il paziente guarisce. La maggior parte delle malattie non lascia traccia di devianza o di condotta abnorme sulla reputazione del paziente. Nessuno si interessa di un ex allergico o di un operato di appendicite, come nessuno verrà mai ricordato per aver violato le regole del traffico. In altri casi, però, il medico agisce come un attuario e la diagnosi da lui emessa può diffamare il paziente e talora anche i suoi figli per tutta la vita. Attribuendo una degradazione irreversibile all'identità di una persona, la si segna per sempre con uno stigma incancellabile. La condizione obiettiva potrà essere scomparsa da tempo, ma l'etichetta iatrogena rimane attaccata. Come ex chaleotti tutti quelli che hanno sofferto di disturbi mentali, che hanno avuto un primo attacco di cuore, che sono passati attraverso l'alcolismo, i portatori del gene, dell'anemia falciforme e fino a poco tempo fa gli ex tubercolotici, sono trasformati in diversi per il resto della loro vita. Il sospetto professionale basta da solo a legittimare lo stigma, anche se la condizione sospettata non è mai esistita. L'etichetta medica può proteggere il paziente da una pena solo sottoponendola a un interminabile trattamento educativo, terapeutico e discriminatorio che gli ha inflitto nel suo presunto interesse. In passato la medicina catalogava la gente in due modi, distinguendo i pazienti suscettibili di cura da quelli che erano invece senza speranza, come le brosi, gli storpi, gli stravaganti e i moribondi. In entrambi i casi la diagnosi poteva comportare uno stigma. Oggi la prevenzione medicalizzata crea un terzo modo di distinzione. Fa del medico un mago ufficialmente autorizzato, le cui profezie le edono anche quelli che sono rimasti immuni dalle sue pozioni. La diagnosi può negare la nascita a un essere umano con geni cattivi, escludere un altro dalla carriera e un terzo dalla vita politica. La caccia su scala di massa ai rischi per la salute comincia gettando grandi reti destinate a catturare tutti quelli che hanno bisogno di speciale tutela. Visite mediche prenatali, cliniche per l'assistenza di bambini in buona salute, check-up nelle scuole e fra gli iscritti, alle associazioni giovanili, campagne di medicina preventiva organizzate da enti assistenziali. Recentemente si sono aggiunti consultori di genetica e per il controllo della pressione sanguigna. Gli Stati Uniti sono stati orgogliosamente all'avanguardia del mondo nell'organizzare la caccia alle malattie e successivamente nel metterne in dubbio l'utilità. Negli ultimi dieci anni, accolte come la scala mobile, che permette anche al povero di ascendere al livello dei grandi privilegiati, sono state realizzate delle apparecchiature che consentono tutta una serie di test automatizzati. Questa catena di montaggio di complessi esami chimici e medici funziona a costi bassissimi e col semplice intervento di tecnici paraprofessionali. Il suo scopo vuole essere di offrire a milioni di persone la possibilità di scoprire i loro bisogni terapeutici occulti in modo ben più raffinato di quanto non fosse consentito negli anni Sessanta neppure alle più alte personalità di Houston e di Mosca. Al momento del lancio di questa operazione, la mancanza di indagini approfondite permise ai venditori di prevenzione di suscitare aspettative infondate. È solo da poco che si dispone dei risultati di studi comparati, condotti su gruppi di popolazione che hanno goduto di servizi di controllo e di individuazione precoce. Più di una ventina di questi studi mostrano che tali accertamenti diagnostici, anche quando sono seguiti da cure mediche di alto livello, non hanno alcuna ripercussione positiva sull'attesa di vita. L'ironia è che disturbi gravi e senza sintomi apparenti, che soltanto con questo tipo di indagini si riesce a scoprire fra gli adulti, sono spesso malattie inguaribili e una loro cura precoce non fa che aggravare le condizioni fisiche del soggetto. In ogni caso, esse trasformano delle persone che si sentono bene in pazienti ansiosi di conoscere il loro verdetto. Nell'identificazione della malattia, la medicina fa due cose. Scopre nuovi disturbi e attribuisce questi disturbi a concreti individui. Scoprire una nuova specie di malattia è l'orgoglio del medico ricercatore. Attribuire la patologia a tizio, caio o sempronio è il primo compito del medico in quanto membro di una professione che tratta col pubblico. Educato a fare qualcosa e ad esprimere il suo interessamento, egli si sente attivo, utile ed efficace quando può diagnosticare una malattia. Anche se teoricamente, al primo incontro, il medico non presume nulla circa lo stato di salute del suo paziente, di solito, per una forma di garanzia dall'errore, egli si comporta come se attribuire al paziente una malattia fosse meglio che non notarla. La dimostrazione classica di questa propensione fu fornita da un esperimento eseguito nel 1934. Durante un controllo di mille ragazzi di 11 anni di alcune scuole di New York, si trovò che al 61% di essi erano state asportate le tonsille. Il rimanente 39% fu esaminato da una squadra di medici, i quali trovarono che il 45% di essi aveva bisogno di essere operato alle tonsille e scartarono gli altri. I ragazzi scartati furono riesaminati da una seconda squadra di medici, i quali consigliarono la tonsillectomia per il 46% di quelli che erano rimasti dopo il primo esame. Quando gli ultimi scartati vennero esaminati per una terza volta, una stessa percentuale fu segnalata per la tonsillectomia, sicché dopo tre esami risultavano soltanto 65 bambini per i quali non fosse stata prescritta all'asportazione delle tonsille. Questi soggetti non vennero sottoposti a un nuovo esame perché si erano esauriti i medici esaminatori disponibili. Il test fu eseguito in una clinica gratuita, dove quindi mancavano ragioni finanziarie per spiegare la tendenza. La propensione diagnostica in favore della malattia si combina con frequenti sbagli di diagnosi. La medicina non soltanto imputa categorie discutibili con entusiasmo inquisitorio, ma lo fa con un tasso di errore che nessun sistema giudiziario potrebbe tollerare. In un caso le autopsie hanno dimostrato che oltre la metà dei pazienti morti in una clinica universitaria inglese con una diagnosi di collasso cardiaco specifico erano in realtà deceduti per altre cause. In un altro esempio, un gruppo di specialisti cui venne mostrata in occasioni diversi una medesima serie di radiografie del torace cambiarono idea complessivamente sul 20% dei casi. I pazienti che dichiarano al dottor Bianchi di avere tosse, catarro oppure crampi allo stomaco sono sempre tre volte di più di quelli del dottor Rossi. Fino a un quarto dei più semplici esami clinici dà risultati sostanzialmente divergenti quando lo stesso campione viene analizzato in due laboratori diversi. Ne sembrano maggiormente infallibili le macchine. In una gara fra apparecchiature diagnostiche e diagnosti in carne e ossa disputata su 83 casi per cui era stato richiesto un intervento chirurgico sul bacino la patologia rivelò che sia l'uomo che la macchina avevano ragione in 22 casi che in 37 casi giustamente l'elaboratore aveva scartato la diagnosi del medico che in 11 casi erano esatte le conclusioni del medico e non quelle dell'elaboratore e che in 10 casi avevano sbagliato entrambi. Al pregiudizio e all'errore di diagnosi si aggiunge poi l'aggressione gratuita. Il cateterismo cardiaco che si fa per determinare se un paziente soffre di cardiomiopatia d'accordo non è un esame di tutti i giorni costa 350 dollari e uccide un paziente su 50. Tuttavia non esiste la minima prova che una diagnosi differenziale basata sui suoi risultati permetta di migliorare la speranza di vita o le condizioni generali del paziente. La maggior parte degli esami è meno micidiale e l'esecuzione è molto più ordinaria ma ugualmente parecchi comportano rischi ben superiori per l'individuo o per la sua prole abbastanza elevati da oscurare il valore che qualunque informazione possa fornire. Ne sono esempi molti usi abituali dei raggi X e del fluoroscopio sui giovani l'iniezione o l'ingestione di reagenti e traccianti e l'impiego del ritalin per diagnosticare l'iperattività dei bambini. Frequentare una scuola dove l'insegnante ha investito di poteri sanitari delegati è un rischio di prima grandezza per la salute dei bambini. Persino degli esami semplici e per il resto innocui si trasformano in rischi allorché si moltiplicano. Quando un test è associato con parecchi altri ha una capacità di fare danno notevolmente maggiore di quando viene eseguito da solo. I suoi test fanno da guida nella scelta della terapia. Disgraziatamente man mano che gli esami diventano più complessi e si moltiplicano non dirà dei loro risultati guidano unicamente alla scelta del tipo di intervento cui il paziente può sopravvivere e non necessariamente di quello che gli giova. Il peggio è che quando uno è passato più o meno indenne attraverso una serie di esami di laboratorio e finalmente viene fuori qualcosa di positivo corre allora il grandissimo rischio di essere sottoposto a terapie che in simili casi sono generalmente esecrabili dolorosissime mutilanti e dispendiose. Non stupisce che i medici tendano a ritardare più dei profani prima di presentarsi al proprio dottore e che siano in condizioni peggiori quando vi ci vanno. L'esecuzione sistematica di controlli diagnostici precoci su vaste popolazioni garantisce al medico ricercatore un'ampia base da cui attingere i casi che meglio si adattano ai sistemi di cura esistenti o che sono più utili per portare avanti le indagini servano o no le terapie a guarire o a dare sollievo. Ma mentre avviene questo le persone si rafforzano nell'idea di essere delle macchine la cui durata dipende dalle visite all'officina di manutenzione e sono così non solo obbligate ma trascinate a pagare perché la corporazione medica possa fare i suoi studi di mercato e sviluppare la sua attività commerciale. La diagnosi sempre aggrava lo stress stabilisce un'incapacità impone inattività concentra i pensieri del soggetto sulla non guarigione sull'incertezza e sulla sua dipendenza da futuri ritrovati medici tutte cose che equivalgono a una perdita di autonomia nella determinazione di sé. inoltre isola la persona in un ruolo speciale la separa dai normali e dai sani ed esige sottomissione all'autorità di un personale specializzato. Quando tutta una società si organizza in funzione di una caccia preventiva alle malattie la diagnosi assume allora i caratteri di una epidemia. Questo strumento tronfio della cultura terapeutica tramuta l'indipendenza della normale persona sana in una forma intollerabile di devianza. Alla lunga l'attività principale di una simile società dai sistemi introvertiti porta alla produzione fantomatica di speranza di vita come merce. Identificando l'uomo statistico con gli uomini biologicamente unici si crea una domanda insaziabile di risorse finite. L'individuo è subordinato alle superiori esigenze del tutto. Le misure preventive diventano obbligatorie e il diritto del paziente a negare il consenso alla propria cura si vanifica allorché il medico sostiene che gli deve sottoporsi alla diagnosi non potendo alla società permettersi il peso di interventi curativi che sarebbero ancora più costosi.